Ingredienti Dosi per 4 persone 800 grammi di gnocchi di patate 30 grammi di burro 100 grammi di gorgonzola Un cucchiaio di conserva di pomodoro Mezzo bicchiere di latte Sale e pepe Preparazione Far sciogliere in una casseruola il burro con il gorgonzola tagliato a pezzi ed il latte Unire la conserva di pomodoro Il sale Il pepe e far cuocere pochi minuti mescolando Cuocere gli gnocchi al dente in acqua bollente salata e scolarli Condire gli gnocchi con la salsa preparata e servire Il piatto è pronto Buon appetito!